Un uomo normale non ti vuole, normale nel senso della norma, un uomo di qualità non ti vuole, che se ne fa di una donna che non sa cucinare bene? Perché come dice il proverbio, la bellezza passa ma la fame resta, la bellezza passa ma la fame resta. Esatto, brava Green Apple, fate la lasagna e non fate la lagna, questo Green Apple, mandami un messaggio Whatsapp su questo perché devo metterlo, fate la lasagna e non fate la lagna, fai la lasagna e non fare la lagna, mandami un messaggio subito su Whatsapp perché non voglio dimenticarlo, mandami un messaggio Whatsapp Green, fai la lasagna e non fare la lagna. Bene, questo sarà una cosa da tenere presente, fai la lasagna e non fare la lagna, mandami su, farò uno short, esatto, farò uno short, fai la lasagna e non fare la lagna, questo mi piace, brava Green, salutiamo Gambino, Trombino, Alessio, iscrivetevi al canale di Alessio che è un cantante emergente, sta emergendo dalla merda, non so, sta emergendo però. Salutiamo anche Silart, salutiamo anche Margot, postalo cosa, cosa posto, carampano di un gambino, posto che cosa? Allora, quindi fai la lasagna e non fare la lagna, fai la lasagna e non fare la lagna, mandami il messaggio Green che poi mi dimentico in 30 secondi, fai la lasagna, ma non posso postarlo! Rimba, postalo te se vuoi, postalo te, no io non riesco a postarlo, mi metto a perdere tempo a cercare il tuo canale, valla a postare tu, non mi fai incazzare Gambino! Allora, quindi questo è un punto importante, quindi fai la lasagna e non fare la lagna, poi devi anche essere passionale però, devi anche essere passionale, perché gli uomini sono attratti anche dalle donne passionali, passionale non vuol dire essere un mignotone da competizione, passionale vuol dire essere una persona, che sa esprimere le proprie emozioni, non avere paura di esprimere, di mostrargli il tuo lato sexy, perché devi anche mostrare il tuo lato sexy, devi anche mostrare il tuo lato passionale, devi anche mostrare il tuo lato emotivo. Certo è che se tu, salutiamo Zaras, se tu sei Gambino, posta sto link, vecchio malgascione, Gambino ha 30 anni e ragiona come un vecchio di 90, posta sto link, Gambino! Quindi, gli uomini sono attratti dalle donne che sono passionali e che sanno esprimere le loro emozioni e che non hanno paura di mostrare il loro lato sexy, che non significa essere un mignotone da competizione, che non significa essere un mignotone da corsa, perché se fai la mignotone da corsa non piace. E poi, diciamo, fallo ridere, se non viene, senti Gambino, non mi romper i maroni. Tutti gli altri lo postano, se tu non lo sai postare, non so cosa dirti. Allora, quindi è una cosa interessante quella, no? Una cosa interessante quella che devi anche capire, ad esempio, ci sono uomini che vogliono essere complimentati e uomini che non vogliono essere complimentati. Questo è un punto fondamentale, no? È un punto fondamentale questo. Cioè, fa sempre parte dell'imprinting. Ci sono uomini che amano il complimento. E adesso vi svelo una cosa importante. Sapete quali sono gli uomini che, diciamo, chiamano essere complimentati? Sono gli uomini che hanno avuto un imprinting sul possesso. Mentre invece gli uomini che amano essere, tra virgolette, sgridati, tra virgolette, sono gli uomini che hanno avuto un imprinting sul desiderio. Questo è una cosa interessante che approfondiremo comunque nei seminari, approfondiremo nei corsi. Fa sempre parte un po' degli imprinting. Però un'altra qualità, invece, è l'umorismo. Il senso dell'umorismo è una qualità che è molto attraente per tutti. Per cui, se fai ridere una persona, lo stimoli, lo fai sentire bene in tua compagnia. Quindi, comunque, ricorda che l'amore è un sentimento complesso, che ha...